E non pretenderà che le di una risposta esaustiva a una domanda così mostruosa e con la gran fretta con cui devo correre a finire la realizzazione, in una battuta sola, a tentoni, fermo rostando che scienza economia da sole, senza altri criteri, punti di riferimento normativi, etici, politici all'interno del battito pubblico non possono da sole affrontare problemi di questa vastità. Quindi solo in una rete di collaborazioni credo sia possibile intravedere qualche via di uscita a domande più grandi di noi. Ribadisco l'impossibilità di concentrare in un minuto di fretta, mi costringe alla sindi, progresso con la natura, attraverso la natura, non in opposizione alla natura ma includendo nella qualità della vita i valori ambientali.